Sono bastati sei giorni ai carabinieri per mettere le manette al primo latitante del 2024. La cattura di Fasili, Chibini è la cifra di un impegno costante il punto su ricerche sviluppate per anni, su più fronti. Sulla testa del 64enne di origini albanese pende una condanna definitiva di oltre 22 anni di reclusione, traffico internazionale di droga, il reato per il quale era ricercato. L'uomo è considerato un broker del narcotraffico transfrontaliero. Secondo gli investigatori avrebbe gestito immediato il traffico di eroina tra il suo paese di origine, la Grecia, la Turchia e l'Italia, soprattutto a Napoli, facendo affari con il clan di Lauro e poi con i Nardielli, gruppo criminale del versante Oplontino. Poi una lunga latitanza, dichiarata nel lontano aprile del 2011, quando, ristretto ai domiciliari, evase facendo perdere le proprie tracce, senza mai un passo falso, lontano dai riflettori, ma non dalla memoria dei militari del nucleo investigativo di Napoli. Lo hanno cercato per 12 anni, fino al giorno dell'Epifania, quando Chibini passeggiava in corso secondigliano, ignaro di essere circondato dai militari. Verosimilmente, lontano dall'Italia, il 64enne non ha rinunciato alle festività natalizie per riabbracciare moglie e figlio. Ha badato ad evitare la strada di farsi vedere in giro, ma all'evidente incremento dei volumi di spesa familiari, ha acceso la lampadina dei calabinieri. Durante le festività, moglie e figlio non rinunciavano ad una sosta in tabaccheria per acquistare delle sigarette. Peccato che non fossero dei fumatori. Le sigarette, infatti, erano per qualcun altro, così i militari hanno intensificato le osservazioni e presidiato il quartiere e con sempre maggiore attenzione sono arrivati a mettere le manette ai polsi al latitante numero 1 del 2024.